buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscola unica al mondo oggi rispondo ad un signore che mi chiede dottore ma come si fa ad realizzare i propri sogni come mai tutti parlano di avere chiaro il focus la concentrazione quant'altro nella propria vita come si può fare rispondo a questo signore che mi scrive da pechino in cina e dire che tu puoi riuscirci solo in tre modi da solo con l'aiuto di un'altra persona o l'ipnosi di cs vera e professionale v maiuscola unica al mondo anche iniziando da un solo audio mp3 dicesse per dare quello scatto per far scattare quella famosa molla che è scattata in me nel 2008 che significa che tu sulla carta per realizzare il tuo sogno devi avere la famosa fissa 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 una fissa idea c'era anche una canzone mi pare di marcella bella o di un'altra o di loretta goggi fissa idea se tu hai quest'idea fissa che ti gioca in testa dalla mattina alla sera passeranno un anno due anni cento anni ma prima o poi la realizzerai perché il tuo subconscio che realizza il miracolo della tua stessa mente ok realizza il miracolo della tua stessa mente ora tutte le persone che hanno realizzato che realizzano i propri sogni già da piccoli hanno questa idea fissa fissa incardinata nelle viscere del proprio subcosciente come le radici di una quercia e questa idea fissa 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 germoglia prima o poi ok se tu leggi tanti libri ti accorgi che così senza neanche usare la parola ipnosi la parola ipnosi dicesse vera professionale con la v maiuscola è un acceleratore ma il miracolo lo fa sempre il tuo subcosciente il tuo pilota automatico se sai come fare bisogna ripetere 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 l'ipnosi dicesse vera professionale con la v maiuscola ti consente di buttare nel cesso nel cestino della spazzatura il tempo l'orologio l'orologio vedi lo butti via il calendario non richiede il tuo tempo non ruba il tuo tempo e ti consente di ottenere ciò che desideri ottenere ciò che desideri lo so che adesso tu pensi ma io mi ripeto sempre voglio diventare ricco voglio questo voglio quell'altro non lo ripeti in maniera giusta perché significa che lo ripeti soltanto a livello superficiale a livello di coscienza hai mille dubbi perché nel nostro subconscio esiste il diavoletto e l'angioletto ci sono dubbi critiche che magari rappresentano anche le voci le opinioni le osservazioni i giudizi dei tuoi genitori dove uno magari era il diavoletto e l'altro era l'angioletto che ti fanno cadere sempre nelle acque come fare per eliminare chi impedisce pur ripetendo di miliardi di volte un'idea fissa a realizzarla devi giocare nel tuo pilota automatico nel tuo subcosciente e spazzare via tutte le nuvole nere pulire da tutte le ragnatele la tua mente profonda una volta che elimini i dubbi le incertezze i sensi di colpa che ti hanno instillato da quando eri un bambino una bambina tu li vedrai meraviglie come per incanto l'incanto è la magia della tua mente e ti sentirai veramente questa idea fissa realizzarsi la sentirai la percepirai ti sentirai una persona diversa 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 ecco rispondo a questo signore rispondo anche a te per cui molte persone pensano che sia il destino sia l'universo sia qualcosa fuori di loro che porta a realizzare quell'idea che hanno quel sogno che hanno da piccoli invece sono loro dentro di te c'è la soluzione aggiungo c'è anche la causa di ogni tuo problema devi soltanto capire quale agire seguire alla lettera i dettami le leggi della mente e realizzare i tuoi sogni tutto il resto ragazzi è inutile il fatto che tu passi di libro in libro di corso in corso non serve a granché se tu non afferri che bisogna parlare al tuo subcosciente con la famosa massima o legge del chiodo schiacciacchiodo è logico esistono tecniche mentali anche l'ipnosi di cs vera e professionale b maiuscola unica al mondo è un qualcosa arte scienza che ti elimina a livello esponenziale tutto ciò che ti sta impedendo di risolvere i tuoi problemi se sai come farlo anche conosco l'audio mp3 dcs che fa per te o per il tuo caro seguendo la lettera le istruzioni molto facili alla prova di un nonno alla prova di un idiota alla prova di un figlio tu puoi meravigliarti del potere della tua mente ok quindi se tu vuoi che questa idea fissa fissa emerga si realizzi come succede alla minoranza devi e puoi lavorare nel tuo subcosciente nel tuo pilota automatico fammi tutte le domande del caso ti risponderò gratis compatibilmente a miei tempi e miei impegni visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi autoipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dcs del dottor claudio saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi gentilmente anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dcs del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio dal dottor claudio saracino e concludo con questa bellissima massima di san francesco d'assisi attento a ciò che dice ciò che pensi perché può diventare la profezia della tua vita un bacio un abbraccio dal dottor claudio saracino e alla prossima ciao